U.A.V. ostile in sorvolo, torretta rinforzata ampeata, schierata, colpo fulminante alleato, prendiamo B. U.A.V. ostile in sorvolo, torretta rinforzata ampeata, schierata, 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 schierata. U.A.V. richiedo assegnazione U.A.V. Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo. Approvvigionamento in attesa. U.A.V. 50% di autonomia. U.A.V. L'energia al 5%. U.A.V. in rientro. Prendiamo Bravo. Il nemico ha preso Bravo. Eliminato. Prendiamo Bravo. H.C.X.D. pronto. Bravo al sicuro. Prendiamo B. Ecco qua. U.A.V. pronto. Prendiamo Bravo. Fate decollare un U.A.V. Perimetro stabilito. Quota 10.000 piedi. Wright alleato nell'area operativa. Prendiamo C.X.D. U.A.V. a 5.000. E' un testo Bravo. Prendiamo C.X.D. Colpo culminante alleato. Corretta rinforzata. Nemico a terra. Prendiamo Bravo. Prendiamo B. Abbiamo perso B. Abbiamo violato un C.U.A.V. Nel video. B.S.T. sotto controllo. U.A.V. pronto lo schieramento. L'H.C.X.D. è pronto. U.A.V. alleato finalista. Approvvigionamento in attesa. Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo. U.A.V. 50% di autonomia. Energia al 5%. U.A.V. in rientro. Peccato in piedi. U.A.V. in rientro. Seziono. Outrider eliminato. Nemico. Preso. Firebreak a terra. H.C.X.D. a disposizione. Approvvigionamento pronto. U.A.V. pronto allo schieramento. U.A.V. distrutto. U.A.V. in rientro. Confermo. Centro confermato. Confermo. U.A.V. pronto. U.A.V. pronto allo schieramento. Ok, totem 3-1. Il nemico ha violato la vostra nave RAPS. Scorte sganciate. Rientriamo.